La notizia inserita fra le news del sito del Comune di Lecce non è passata inosservata. Specia si interessa una partecipata di Palazzo Carafa come la Lucchi e Servizi, soprattutto se vengono riaperti i termini scaduti già da diverse settimane per la nomina dei vertici della municipalizzata del Presidente che, secondo norma, dovrebbe essere nominato dal CDA. Fatto sta che la partita ora viene riaperta per chiudersi il 30 aprile. Le motivazioni ufficiali sono che, non essendoci donne, potrebbero più avere ricorsi, ma al di là delle dichiarazioni dietro ci sarebbe una partita tutta politica e sembrerebbero da interpretare in questo senso le assenze fra i banchi della maggioranza in Consiglio Comunale. I malumori per la scelta di riaprire i termini in casa PDL ci sono e si vedono, anche perché ora si sparigliano tutte le carte in tavola. Sembra tramontare l'ipotesi Gian Maria Greco, figlio del consigliere Fiorino, che nei giorni scorsi avrebbe avuto un incontro con il Sindaco. Perone gli avrebbe comunicato l'imbarazzo politico di una nomina, per così dire, di famiglia. Insomma, tutto da rifare? Non proprio. Il primo cittadino potrebbe evitare spaccature, proteste e pretese, riconfermando alla guida di Lupie Giuseppe Tamborrino, che, peraltro, ha presentato domanda. Ma questa non è la sola novità a Palazzo. Rientra dalla finestra Balterliaci, consigliere comunale non riconfermato alle ultime amministrative. Il Sindaco lo ha nominato, senza alcun compenso, consulente nel settore Polizia Municipale. La partita delle poltrone non finisce qui. A maggio scadrà il CDA della SGM, altra partecipata di Palazzo Carafa. Per una di queste poltrone starebbe facendo pressioni già da tempo un altro pretendente che non ce l'ha fatta alle scorse comunali, Gianni Peila. Insomma, la carica dei nomi della saga a volte ritornano a Palazzo Carafa.